ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e vi porto un'altra notizia riguardo ai giochi del mese di maggio allora come state vedendo il trailer di fondo in pratica vi andrò a parlare di switch galaxy ultra ragazzi che sarà un gioco rilasciato dalla playstation plus insomma dalla sony per il mese di maggio e sarà disponibile per playstation 4 e ps vita allora come state vedendo questo gioco è un pochino spaziale diciamo che è una sorta di di autopista spaziale in cui andremo a correre con delle navicelle insomma e andremo a fare il punto del gioco insomma questo questo gioco ha le funzioni cross play perché giustamente è anche un titolo ps vita quindi si può interagire con questa modalità cross play da da qualunque altro dispositivo insomma nel senso che comunque possiamo interagire da ps vita ps4 e cazzi e cazzi vale insomma chi ha ps vita conosce bene questo sistema cross play poi cosa cosa c'ha questo gioco cosa c'ha allora questo gioco ha sei sei veicoli completamente modificabili due modalità multiplayer e visori disegnati insomma ha parecchie cosine che potremmo andare a vedere potremmo andare a vedere magari sperimentare un pochino questo gioco per per vedere come come va non è il mio genere di gioco però penso di scaricarlo giusto per dargli un'occhiata per guardare come ha fatto questo gioco anche perché non mi sembra affatto male anche se a me giochi spaziali non piacciono però questo non mi sembra affatto male sembra abbastanza carino è un gioco diciamo molto di riflessi insomma no bisogna essere veloci capire il momento giusto quando quando muoversi da una corsia all'altra come state vedendo e tutto il resto quindi penso che sia abbastanza abbastanza elettrizzante come gioco insomma non credo che sia la solita cazzatella che hanno rilasciato ultimamente quei giochini idioti penso che questo qui impegnerà un pochino il nostro tempo insomma o almeno si spera diciamo e come dicevo questo gioco è rilasciato sia per ps vita che per playstation 4 quindi ragazzi chi volesse scaricarlo questa è una piccola anticipazione comunque chi volesse scaricare il gioco già sa di che cosa tratta più o meno come è fatto e quindi niente come ho detto io andrò a scaricarlo magari farò un piccolo gameplay e lo vedremo insieme in maniera più approfondita anche se è abbastanza insomma si vede abbastanza bene che tipo di gioco è niente ragazzi per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video ciao a tutti